Io sono un pescatore semplice, se c'è da calo a calo, se c'è da via, via. Riccardo Panelli e i suoi ospiti tornano a percorrere le coste della nostra penisola alla ricerca di prede che metteranno alla prova la loro lunga esperienza. Oggi è dura, molto dura. Fishing Veterans, la nuova stagione. Dal 2 giugno ogni mercoledì alle 21 in esclusiva su Pesca TV. Grazie a tutti i nostri spettatori.